Il Consiglio regionale approva la prima variazione di bilancio del 2023, in arrivo 47 milioni di euro per far quadrare i conti della sanità. E mentre in votazione la prima, il Presidente Gianni annuncia una seconda variazione di bilancio per la bonifica delle aree inquinate dal CHEU, le proteste dell'opposizione. Operatori sanitari chiesta la proroga delle graduatorie, Forza Italia esulta. Fino al 29 aprile a Palazzo del Pegaso, l'Inferno di Dante e altri mondi fantastici. La mostra con le coloratissime opere di Arturo Bartolini. Una boccata di ossigeno da 46,9 milioni di euro al sistema sanitario toscano. L'ha ufficializzata il Consiglio regionale con l'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione per il 2023. Il provvedimento punta a garantire l'equilibrio economico al bilancio della sanità toscana con un'infusione da quasi 47 milioni di euro. Come stato spiegato in aula, la manovra lascia sostanzialmente inalterato il volume complessivo del bilancio. 9 milioni di euro arrivano dai fondi di riserva e i restanti 37 da accantonamenti sulla spesa corrente. Una manovra importante, anche se molto puntuale, è riferita soltanto ad un aspetto, cioè a quello del riequilibrio dei conti del servizio sanitario regionale. È nota a tutti che la sanità dopo la pandemia ha registrato forti perdite, quindi c'è un impegno da molto tempo da parte della regione toscana, come del resto da parte anche delle altre regioni italiane, a recuperare risorse, per un recupero che si avvicina ai 47 milioni di euro, 46,92 milioni di euro. Queste risorse, recuperate dagli accantonamenti e dalle riserve, vengono oggi destinate al servizio sanitario regionale. Una misura importante, necessaria e che dimostra come la regione stia con senso di responsabilità affrontando il tema dei costi della sanità per continuare a garantire i servizi ai cittadini. Il provvedimento ha ricevuto 23 voti favorevoli e 12 contrari. La soddisfazione degli esponenti della maggioranza. Con questa variazione noi riusciamo a chiudere il bilancio 2022, che quindi così è completamente coperto. Ovviamente questa variazione ci ricorda nuovamente che vi è un problema che non è della Toscana ma è nazionale. L'Italia finanzia circa il 6,3% dei PIL, il sistema sanitario nazionale, contro il 9,8% di Germania, di Francia, contro il 7,5% della Gran Bretagna. Vuol dire che noi avremmo bisogno a livello nazionale di 40 miliardi in più sul fondo sanitario, se volessimo essere al pari di Germania e Francia, o almeno 20 se volessimo essere al pari dell'Inghilterra. Questo è il vero tema che noi abbiamo di fronte. Altrimenti le regioni saranno sempre costrette a dover fare variazioni, adeguamenti, ma che tentano di mettere una toppa rispetto al grande problema che è un vero finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Sì, una variazione molto importante che mette in sicurezza i conti della sanità, che conferma quello che Italia Viva ha sempre detto in Toscana, che i soldi c'erano, le risorse erano possibili da trovare per cercare di mettere in equilibrio i conti della sanità, che non serviva a aumentare le tasse. Su questo ne abbiamo fatto una battaglia identitaria del nostro partito. Io in primis durante la sessione di bilancio ho sempre rivendicato il fatto che non servisse a aumentare l'addizionale IRPEF e che le risorse si potessero trovare. Oggi queste risorse vengono trovate e la sanità dimostra ancora una volta, a fatica, quello è vero, ma di trovare un equilibrio sostanziale dei propri conti, ma questo lo trova perché ovviamente eroga un livello di servizio molto alto, un livello di qualità che deve migliorare, soprattutto rispetto all'assistenza dei territori, ad alcune risposte rispetto alle liste di attese e su un efficientamento del sistema dell'emergenza e urgenza, un'integrazione massima da fare con il sistema del volontariato. Per l'opposizione, la votazione sulla variazione di bilancio è stata l'occasione per denunciare le criticità del sistema sanitario regionale. Una valutazione pessima, nel senso che c'è bisogno di fare questa variazione di bilancio perché c'è un buco da 850 milioni di euro fatto dalle giunte di sinistra della regione toscana in ambito sanitario, rispetto alla quale la regione toscana riesce a metterci una pezza, cioè non viene commissariata, semplicemente perché il governo Meloni ha messo più soldi nel Fondo Sanitario Nazionale. Il governo Meloni è il governo che nella storia ha messo più soldi in dotazione alla sanità italiana, chiaramente di quel fondo ne viene una quarta parte anche alla regione toscana e così riesce la regione in parte a coprire i propri danni fatti in questi anni. Danni che sono sotto gli occhi di tutti. Voi pensate che in Toscana ci sono circa 2000 primari, c'è un primario ogni 10 posti letto. Un primario ogni 10 posti letto. Quindi quando l'assessore Bezzini e il presidente Gianni chiedono più soldi, noi vorremmo sapere più soldi per far cosa? Per fare il duemilesimo primario, per aumentare ancora un posto di governo dentro la sanità o per fornire più prestazioni come in realtà non vengono fornite? Il fatto che un'intera variazione di bilancio debba essere dedicata alla sanità fa capire quanto sia in affanno in questo momento il sistema toscano. Però rimangono, permangono a distanza di tempo e anzi si sono aggravate molte criticità che il sistema sanitario toscano già aveva. A questo si deve far fronte quindi con degli interventi straordinari considerando che dal 1970 la sanità toscana con i suoi vari buchi, scandali, numero di primari assolutamente in sovrannumero rispetto ai posti letto, problema di personale, di OS, la vita indipendente, il CUP che ancora non funziona, Corte dei Conti che scrive centinaia di pagine per attaccare il sistema di gestione delle liste d'attesa, vedere adesso che si devono fare degli stanziamenti straordinari significa soltanto una cosa unita a quello che ho elencato prima, che c'è una mancanza di capacità di programmazione e di organizzazione e questo qui naturalmente si riflette anche sugli aspetti finanziari. Sostanzialmente si continua a navigare a vista e ci sono difficoltà, lo sappiamo, per quanto riguarda i ricorsi delle aziende farmaceutiche per i payback sanitari, sono state messe a credito, vedremo se riusciremo a incassare tutte le cifre che sono state messe a bilancio nello scorso anno. La preoccupazione permane, manca la programmazione, manca la strategia, abbiamo necessità di far ripartire la nostra regione, invece vediamo il PD sempre più buttarsi a sinistra. Noi ci siamo, ci siamo per sostenere la sanità pubblica, lo diciamo senza dubbi e con determinazione. Quindi abbiamo votato contro per una scelta di natura politica perché non cambiano purtroppo le cose per i toscani. Naturalmente è una valutazione negativa anche perché è ormai certificato che noi abbiamo un deficit strutturale di mezzo miliardo di euro, un deficit che noi possiamo provare a ripianare in tutti i modi, ma se non ci mettiamo in testa di attivare una programmazione lungimirante, seria, noi non riusciamo a uscire da questa situazione assolutamente critica. La Giunta oggi per l'ennesima volta ci presenta appunto un intervento sul bilancio di nuovo a tamponare una situazione. Io ricordo che dal 2021 ormai siamo a 203 milioni di euro che noi abbiamo messo in una situazione sanitaria sulla quale ancora non si riesce a capire che cosa realmente voglia fare la Regione. Io credo che qualsiasi appello che viene fatto a maggiori risorse dal Governo, seppur legittimo, naturalmente non può però determinare un nuovo a montare di risorse destinate alla Toscana che però non vengano destinate nel modo giusto, quindi incanalate con una programmazione lungimirante. Questo in due anni e mezzo noi non lo abbiamo visto e il rischio è che davvero a chi verrà dopo si lasci in eredità una situazione contabile assolutamente pesante. Bonifiche dei siti inquinati dal Cheu. La Regione Toscana ci mette la faccia e i soldi. È il messaggio lanciato dal Presidente Eugenio Gianni che ha annunciato la volontà della sua amministrazione di sostituirsi agli enti proposti per le bonifiche e distanziare altri 8 milioni di euro per gli interventi. Noi vogliamo che ciò che è urgente e necessario per le bonifiche venga fatto, già 5 milioni sono a disposizione nel bilancio. Per poter agire sulle bonifiche occorre seguire le procedure che la legge ci propone, sono procedure che spesso richiedono comunque il consenso, l'autorizzazione di chi magari con situazione di titolarità giudiziale in questo momento ha la responsabilità di quei siti. Quindi sono procedure purtroppo non brevi ma noi le seguiamo per poterci sostituire e bonificare quello che sono siti che possono essere stati inquinati dalla presenza del CHEU. Oltre 5 milioni che avevamo messo nel nostro bilancio, altri 8 noi li metteremo proprio nella prossima variazione di bilancio perché riteniamo che comunque nell'interesse dei cittadini la regione che si costituirà a parte civile nel procedimento che è in corso da un punto di vista giudiziario può sostituirsi per anticipare quello che è l'effetto di bonifiche sul territorio. L'annuncio del governatore è arrivato a seguito di una interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle. È stato interessante sentire il Presidente Gianni raccontare di quello che è stato fatto nel 2021 cioè quando è emersa tutta la gravità del problema. Peccato che siamo nel 2023 e soltanto adesso con una variazione di bilancio il Presidente ci annuncia a bontà sua che verranno fatte anche delle bonifiche per sostituirsi a quelli che sono i responsabili. Peccato che quest'azione che lui ritiene molto efficace è quantomeno tardiva, soprattutto manca di un monitoraggio attento di quelli che sono e soprattutto nella comunicazione di tutti quelli che sono i siti contaminati perché queste aziende hanno lavorato anche in altri a parti pubblici. La Regione doveva fare il suo lavoro invece di essere compiacente e spesso troppo arrendevole nei confronti di molti imprenditori che non hanno fatto il loro dovere danneggiando così non soltanto l'ambiente e la salute dei cittadini ma anche tutti gli imprenditori onesti che hanno sempre fatto il loro lavoro rispettando le regole. Green Park, Crespina Lorenzana, la Salata Statale 429 sono tutte ancora al loro posto con dei teli di copertura quando sappiamo che l'acqua permetterà al cromo esavalente di generarsi e andare nelle falde. Non ce ne facciamo più niente dei monitoraggi, serve un'azione vera, non le parole del Presidente. E la tempistica dell'annuncio della nuova variazione di bilancio ha innescato le critiche della destra. Siamo rimasti un po' tutti perplessi perché mentre l'Aula sta discutendo di una variazione di bilancio finalizzata all'ennesimo assestamento dei conti in sanità, il Presidente Gianni anziché stare in aula e partecipare al dibattito ha pensato bene di annunciare che a breve arriveranno 8 milioni per fare le bonifiche che ovviamente i territori chiedono ormai da mesi. Un anno e mezzo fa Fratelli d'Italia aveva chiesto che le bonifiche venissero guidate dal Governo nazionale e non era il Governo Meloni. Ci fu risposto da Gianni, dall'assessore Monni di no, che le bonifiche le avrebbero gestite con risorse interne alla regione toscana. Individuarono un commissario che iniziò a svolgere il proprio lavoro, peccato che dopo tre giorni sia arrivata sulle spalle un'inchiesta per smaltimento abusivo di rifiuti da un'altra parte della Toscana, quindi un capolavoro, e da allora non è mai stato individuato un commissario. Se la regione toscana vuole un commissario da parte del Governo, ammettano la loro incapacità di effettuare le bonifiche e chiedono al Ministro competente di avere un commissario che svolga questo servizio. La Toscana ha inoltrato un'istanza alla conferenza Stato-Regioni per prolungare le graduatorie di almeno un altro anno e nel 2023 non è previsto un nuovo concorso. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini, parlando del tema delle assunzioni di nuovi operatori socio-sanitari in risposta a un'interrogazione di Forza Italia. Siamo contenti di aver fatto cambiare idea alla Giunta Gianni, all'assessore Bezzini e al Partito Democratico. In un primo momento ci era stato detto che la graduatoria andava bene così, che non ci sarebbe stata la proroga. Oggi scopriamo, grazie a Forza Italia, grazie al nostro impegno che su quella graduatoria invece il Governatore Gianni ha chiesto una proroga di un anno insieme a tutte le altre regioni. Questo non basta perché da oggi comincia un percorso diverso. Noi continueremo a sollecitare naturalmente i nostri parlamentari, il Ministro della Salute, affinché ci sia una proroga per lo meno di un anno. Noi chiediamo due anni ma per lo meno di un anno per tutte le graduatorie che riguardano il comparto della sanità regionale. Questa è una prima buona notizia per le oltre 2.000 persone che sono risultate idonee a quel concorso. Una vicenda, quella delle graduatorie degli operatori sanitari, su cui la maggioranza conferma e rivendica il suo impegno. L'impegno sullo scorrimento della graduatoria risiede negli atti proposti da tanti gruppi politici, sia di maggioranza che di minoranza e quindi ne discuteremo anche nelle prossime ore. Ma l'assessore ha ribadito il concetto, cioè la possibilità di scorrere la graduatoria o comunque di mantenere in vigenza la graduatoria oltre i due anni consentiti attualmente dalla legge, spetta a livello nazionale che deve appunto intervenire su una norma, prorogando di almeno un anno, richiesta che la Toscana ha già avanzato e che è stata fatta proprio anche dalle altre regioni. Dopodiché chiaramente c'è tutto un lavoro che riguarda vincoli che risiedono ancora su livello nazionale rispetto ai tetti di spesa e anche ai numeri assunzionali che ancora oggi risaliamo al governo Berlusconi e al ministro Brunetta, sono stati posti rispetto a un limite economico che risale addirittura al 2004. Si intitola L'Inferno di Dante e altri mondi fantastici e sarà visitabile presso il Centro Expo di Palazzo del Pegaso a Firenze fino al 29 aprile, la mostra che raccoglie le coloratissime opere di Arturo Bartolini. I lavori sono tutti ispirati al primo cantico della Divina Commedia in un'esposizione tenuta a battesimo dal Consiglio regionale della Toscana. E' una mostra che arriva dritta dritta al cuore, i suoi colori vivaci, il suo messaggio forte, un inno alla bellezza dell'arte. Il quadro che verrà donato all'Assemblea Legislativa chiede un mondo di pace, un mondo più sostenibile, un mondo in cui ognuno di noi deve provare a vivere meglio. Le sue opere che ritraggono paesaggi ma anche persone danno il senso di quanta creatività e quanta libertà si crei attraverso l'arte. E proprio sull'opera che sarà donata al Consiglio regionale si è soffermato l'artista nella sua riflessione. Questo qua è un mio lavoro che avevo fatto sulla mia elaborazione quando ero a scuola, sul tema della pace. L'ho chiamata I have a dream e questo lavoro consiste di un disegno di arcobaleni dove scivolano allegri degli omini fatti con diverse teste di simboli di pace ma anche di simboli di capogrossi. Il primo l'avevo fatto a scuola, semplice, a pastelli, ma il secondo l'ho fatto un pochino più grande anche con l'aggiunta di alcuni animali. Ho deciso di lasciare al Comune della Regione proprio questo disegno perché esprime pace, speranza e rispetto per tutte le creature viventi. Ed è anche un messaggio di pace per tutte queste cose per contrastare la sua forza anche contro qualcosa che ha a che fare con la guerra che purtroppo non molto l'altro anno da qui c'è ancora. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it Grazie a tutti!